Lei non crede in Dio, ma Dio crede in lei e mi ha lasciato un po' in questo clima di relativismo e di ponismo. Io vi ringrazio per le splendide stimolazioni e mi scuso se ho cercato di essere simpatica. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, è benvenuto. Allora c'è uno studente per favore che vuole intervenire e che si può dire quale impressione ha ricavate da questo dibattito, con posizioni così diverse, da parire incomunicabili, incommensurabili per usare un termine post-a-terra. Anche se fosse... Nessuno. E vabbè, allora, forse abbiamo qualche altro minuto, se qualcuno dei regolatori vuole fare un brevissimo intervento di risposta... Brevissimo, brevissimo. No, se chiamo prima gli altri. Perché? Gasbarro, con gli anni... Se chiamo no, l'ordine. Mi ha chiesto la parola. Ah, questa parola. Eh, è una cosa sacra, quella sacra. Non noi vogliono seguire l'ordine, io sono delle priorità. C'è il minimo. Piccolissima cosa. Vorrei chiarire con il collega Simonica. Mi pare che dovremmo essere d'accordo che non ha nessun senso voler parlare dei fatti e non delle teorie sui fatti. Non ha nessun senso in questo senso. Se separassimo l'analisi dei fatti dall'analisi delle teorie sui fatti, saremmo nella più franca metafisica. Evidentemente l'esperienza, il mondo, è il mondo in cui noi viviamo, in cui abbiamo dei rapporti, delle relazioni, e una parte di queste relazioni sono relazioni conoscitive. In realtà l'uomo ha bisogno di mangiare, ma anche di pensare. E mangiando e pensando costruisce il mondo, anche. Per cui non è possibile separare l'una dall'altra cosa. E mi pare però che dovremmo essere d'accordo con Simonica in questa maniera. E' solo così si evita l'assoluto. Proprio perché si mette al centro l'interrelazione dell'uomo con l'ambiente, parole povere, e della reciproca azione dell'ambiente sull'uomo e dell'uomo sull'ambiente. Solo in questa maniera si evita l'assoluto. E allora, per esempio, si potrebbe dire che il discorso di Simonica l'ha preso molto più sul serio di quanto lui non lo presenti. Nel senso che ha un implicito filosofico. È sotteso una teoria generale. Non è vero che un semplice discorso praticistico sottende una teoria. E quindi vale la pena invece di discutere anche il piano teorico. Io pure volevo dire, c'è indubbiamente un'esigenza, e questo mi pare di averla accennato, forse è la mia polemica, non l'ha affatto percepire, o l'ho espressa male, molto più probile che l'abbia espressa male. Io non è che non riconosco una, come dire, una struttura critica insofferente, a volte aggiungo giustamente insofferente. Grazie. Grazie.